Ragazzi nel video di oggi andremo ad affrontare tre punti importanti su Fableborn Il primo è una notizia che vi andrò a leggere Il secondo è l'annuncio del Mint in arrivo entro settembre E al terzo posto una sorpresa speciale per chi arriva in fondo al video Mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi video sul Web3 Gaming Che è assolutamente il futuro del settore dei videogiochi Ed entrate anche nel server Discord di Web3 Gaming Italia Dove troverete una community italiana appassionata di questo settore Allora senza perdere altro tempo vediamo il profilo di Fableborn che è 18.4k Vorrei che gli editor andassero a pescare quanti follower aveva la prima volta che ho fatto l'analisi Ragazzi meno di 1000 follower vale la pena mettersi avanti e iniziare a seguirli Ancora prima che ricevesse questa notizia eclatante di cui andremo a parlare oggi 5.5 milioni di fondi io già l'avevo detto che era un progetto con molto potenziale Se ha raccolto 5.5 milioni di fondi nell'estate del 2023 in un pieno beer market vuol dire qualcosa Gli investitori sono veramente grossi quindi bisogna rizzare le orecchie su questo Mint che potrebbe essere molto molto interessante È un progetto che come vi dicevo seguivo da molto hanno annunciato il Play to Mint Quindi ci saranno da fare delle varie sfide per ottenere l'NFT Ancora non si sa se è gratuito o se avrà un costo ma vale certamente la pena tenerlo d'occhio Vi faccio vedere qui che fanno uno sneak peek di NFT che lanceranno sembrano dei diavoletti molto interessanti Spero ragazzi che la supply sia bassa meno di 3000 NFT sarebbe molto interessante In quel caso penso che accumulerò tantissimo ma mi raccomando entrate nel server Discord Web3 Gaming Italia Perché lì ne parlerò quando annunceranno la supply quando annunceranno il prezzo vi condividerò la mia opinione se vi interessa Tra l'altro su YouTube avevo non solo analizzato il progetto ma anche giocato Ed è un bellissimo gioco perché è un diablo che incontra Clash of Clans Ma vi consiglio di andare a vedere il gameplay Hanno già fatto dei tornei con premi in denaro Per chi è interessato a questo settore è veramente un progetto interessantissimo Anche se ancora non si sa la data esatta del Mint Mi raccomando dopo questo video andate su Twitter a vedere se hanno fatto nuovi annunci Su Web3 Gaming Italia parliamone in chat Perché il Mint dovrebbe essere entro settembre e quindi è importante che si sappia esattamente la data Dico sempre di iscriversi e di attivare la campanella È importante perché se dovesse essere annunciato il Mint una settimana dopo l'uscita di questo video Solo chi è iscritto e ha le notifiche attive vedrà questo video E potrà avere la possibilità di ottenere una whitelist all'interno di Web3 Gaming Italia Perché il terzo punto che volevo affrontare oggi è appunto che regalerò 25 whitelist Per questo Mint all'interno di Web3 Gaming Italia Solo di chi ne fa parte Per ringraziare gli early supporter di questo canale, di questo settore E soprattutto perché conosco i founder anche di questo progetto Sono delle persone molto molto intelligenti E secondo me avrà un successo incredibile e continuerò a seguire questo progetto Dico anche per trasparenza che sono state regalate 5 whitelist Per il team con cui collaboro Che mi dà una mano a fare queste analisi E a gestire tante altre cose Quindi se siete interessati anche a far parte del mio team A lavorare con me Aprite un ticket su Discord Però dovete essere persone che abbiano voglia di impegnarsi Non solo la prima settimana E dopo smettere di avere costanza Detto ciò 5 whitelist per il mio team E questo succederà anche nella Burran Perché tutte le persone che collaborano con me strettamente Avranno tutte le whitelist T1 Che mi verranno regalate per questo canale Nei prossimi mesi, nei prossimi anni Mentre le T2 verranno regalate tutte all'interno di Discord Questo è un po' il piano per gestire il canale Probabilmente faremo un canale a pagamento in futuro In una possibile Burran Quando ci saranno tantissime persone che chiedono notizie Darò la priorità ovviamente a tutti quelli che ci sono già ora nel server E che sono attivi nel server Con magari sconti speciali, mesi gratis Ma questo è l'obiettivo Perché ragazzi arriverà così tanta gente Che sarà difficile da gestire E voi potrete dire di essere qui Già da molto prima degli altri Quindi ragazzi mi raccomando Vi aspetto all'interno del server Discord di Web3 Gaming Italia Perché lì ci sarà il regalo delle 25 whitelist di Fableborn Probabilmente sarà entro una settimana dall'uscita del video Quindi non perdete tempo Il link è in descrizione Iscrivetevi al canale per non perdervi video Notifiche su questo settore Perché le potenzialità come ho già detto più volte Sono davvero tante Vi consiglio il video analisi Che ho fatto la prima volta su Fableborn Oppure il primo video gameplay di un torneo A cui ho partecipato di Fableborn Mentre scegliete quale guardare Io vi saluto E ci rivediamo al prossimo video E ci rivediamo al prossimo video